dunque che cosa vi faccio vedere oggi non ho montato set perché tanto l'intro sarà brevissima vi faccio vedere con quattro cinque fotogrammi chiave come riusciamo ad enfatizzare un'azione un movimento all'interno di un video realizzando un effetto shake poi aggiungeremo suoni musica e quant'altro vi faccio vedere un piccolo esempio e poi vediamo insieme come realizzare questo effetto molto utile non solo per i pugni ma anche per altri tipi di movimenti presenti all'interno del nostro video e preferibilmente in slow motion questa è la clip su cui lavoreremo quindi la clip di una ragazza che prende a pugni un sacco da box che cosa andremo a fare andremo ad enfatizzare il pugno in sé cioè l'impatto che il pugno avrà sul sacco da box attraverso l'utilizzo di alcuni keyframe quindi fotogrammi chiave non è nulla di complicato vi ricordo che questo effetto lo potete applicare ogni tipo di movimento quindi non necessariamente a un pugno o un incidente stradale ma anche a un collegamento di un cavo usb se fate quei video b roll di recensioni per rendere più accattivante il vostro contenuto come lavorare innanzitutto dobbiamo cercare il fotogramma preciso in cui il pugno si appoggia per la prima volta guardatemi sono qua sotto si appoggia per la prima volta sul sacco da box per farlo dobbiamo utilizzare le freccette della tastiera perché in questo caso andiamo lavorare su un colpo solo ma possiamo farlo su più colpi ovviamente no perché il mouse non è abbastanza preciso anche se è un mouse costoso può ingannarci il fatto che il pugno permanga sul sacco da box per più di un frame vedete qua ci sono tre o quattro frame in cui il pugno è appoggiato quindi se ci spostiamo solo col cursore così non siamo sicuri che sia il primo frame utilizziamo le frecce vedi vedete l'ho già schiacciata una volta e ancora il pugno non si è staccato torniamo indietro con la freccia sinistra e al momento in cui il pugno tocca quindi il frame successivo andiamo ad aggiungere un marker col tasto m di milano sulla tastiera a questo punto dovremmo lavorare con la trasformazione della clip lo strumento trasforma qua in basso però dobbiamo andare a ridurre un po la percentuale dell'anteprima perché altrimenti non vedremo bene i punti di controllo che ci serviranno per spostare bene questo questa inquadratura ora apriamo l'inspector perché dobbiamo andare a aggiungere i primi fotogrammi chiave qui abbiamo sempre il nostro cursore fisso su dove abbiamo impostato il marker siccome dovremo andare a spostare l'inquadratura non dobbiamo far sì che rimangano gli spazi neri nel momento in cui andiamo a spostarla quindi eseguiremo senza ancora mettere fotogrammi chiave uno scale uno zoom più o meno pronunciato dipende dall'effetto che vogliamo ottenere va bene dobbiamo avere però un po di margine da poter spostare la nostra clip senza far comparire il nero questo nero ok riposiziono la clip e mi sposto con il tasto sinistra della freccia della tastiera di un frame quindi nel momento in cui il pugno non ancora colpito il sacco da box ora vado a inserire un keyframe così dico final cut che tutta questa inquadratura deve rimanere così in quel particolare fotogramma mi sposto ora sul fotogramma in cui abbiamo inserito il marker con il tasto destro della freccia della tastiera attenzione guardatemi bene qua nell'angolino in basso quello che dobbiamo fare quando dobbiamo enfatizzare un movimento perché venga bene sono due cose il primo se il movimento qualunque esso sia una palla da basket che entra in un canestro o un cavetto che si collega al computer non importa arriva da destra verso sinistra non inquadratura per la maggior parte dei fotogrammi su cui andremo a lavorare dovremo andare a spostarla nella direzione opposta cioè in questo caso da sinistra verso destra perché il pugno arriva da destra verso sinistra quindi spostiamoci e andiamo ad allineare quasi la nostra clip con i bordi originali ma non completamente solo circa ricordiamoci che abbiamo fissato un fotogramma chiave ora ripeteremo questa operazione ma dovete guardare keyframe per keyframe che andrò ad apporre anche se il funzionamento cioè la metodica è la stessa perché dovete capire bene il movimento che dobbiamo far fare per renderlo un po carino poi si può aggiustare dopo se non viene come vuole se non viene come si vuole come sia in testa quindi come viene lo lascerò non importa se farà schifo e basta che capiate ok ci spostiamo di un fotogramma con il tasto destro delle frecce e andiamo a spostare la prima volta molto vistosamente la nostra inquadratura ok quindi non stiamo troppo vicino alla prima posizione che abbiamo fissato spostiamola abbastanza vistosamente mi raccomando bisogna essersi spostati nel fotogramma successivo per raggiungere il keyframe andiamo a spostare vistosamente l'inquadratura appunto torniamo con la freccia destra andiamo al prossimo fotogramma lo facciamo tre o quattro volte questa volta fisso il keyframe e vado a riportarlo più o meno allineato al bordo superiore e al bordo sinistro proseguo lo sposto ancora un po proseguo ancora aggiungo sempre un fotogramma lo risposto un po ma non troppo ok non esagerato come il primo spostamento possiamo anche farlo verso su e nessuno ce lo nega e anche tanto verso giù che lo facciamo un po di volte qui comunque abbiamo il tracciato di tutti i keyframe che abbiamo impostato così daremo anche in considerazione un po il movimento che facciamo fare alla nostra clip l'ultimo keyframe lo andiamo ad impostare ma in position andiamo a mettere zero dobbiamo azzerare i valori in questo modo e solo su position senza tenere in considerazione scale in questo modo andiamo a riportare la nostra inquadratura al frame originale prima dell'impatto quello prima del marker che abbiamo apposto sulla timeline una volta che abbiamo finito facciamo clic su fa e visualizziamo il nostro video chiaramente c'è da aggiungere dell'altro perché altrimenti rimane un po scarno guardiamolo insieme ok lo rifaccio vedere cosa facciamo per migliorare il nostro video innanzitutto andiamo ad aggiungere un motion blur ci sono diversi plugin che ci consentono di aggiungere il motion blur io adesso ne ho uno dei migliaia che ho installati sul computer quindi prenderò una cosa a caso motion blur aggressive motion blur in questo caso non chiedetemi che plug in sia questo perché non me lo ricordo comunque basta cercarlo ce n'è anche gratuiti soprattutto m motion blur è gratuito di sicuro ok quello che fa il motion blur è questo aggiunge questo effetto di sfocatura al movimento che rende più dinamico più morbido il nostro scatto perché alla fine andiamo a realizzare uno scuotimento uno shake no andiamo a ridurre un pochino la durata di questo motion blur per renderlo un pochino percettibile decidiamo un po in base ok in base alla scena così può andar bene manca il suono ovviamente il suono è una cosa importantissima per esempio io ho scaricato un pacchetto di suoni dei pugni ok chiama easy free punch sfx pack l'ho scaricato proprio per questo tutorial che cosa cosa mi a cosa mi riferisco quando dico che il suono è importantissimo qui ci sono 50 suoni non ce n'è uno che mi sia piaciuto ok ho trovato forse l'ultimo qui quindi bisogna sentirne davvero tanti oppure lavorare con i vari effetti di suono di final cut per rendere una tonalità aggiungere l'eco giusto che combaci bene con quello che stiamo vedendo e che possiamo mettere il spugno di paperino o di paperissima di strisciare la notizia se stiamo facendo un filmino un filmino stiamo facendo un video un po' interessante no quindi ho scelto questo non so se si si senterà se non lo aggiungo in post ok comunque rimane piattissimo lo stesso perché manca tutto un contorno allora per l'evenienza ho scaricato altri suoni che vado ad aggiungere e poi vedrete il risultato finale che è accettabile per essere un tutorial non è un film di hollywood insomma comunque prendiamo questo qui che è il battito del cuore ok che crea un po di atmosfera e già cambia sì il suono fa schifo ma quello ho trovato e poi vado ad aggiungere anche una serie di colpi che sono diciamo con un riverbero come se si fosse veramente in una palestra che riempiono molto vi faccio sentire vedere tutto insieme se noi facciamo una cosa analoga per tutti i colpi pugni salienti di questo video magari non tutti ma solo alcuni quelli che ci sembrano più potenti riusciamo a tirare fuori un bel video da un video che era muto perché è preso da pexels quel sito di immagini gratis ok di immagini video stock gratis vi dico giusto due cose e poi finiamo il video bene le due cose che vi devo dire come al solito lasciate un mi piace per supportarmi e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto qualcuno di voi che è iscritto se vuole che è interessato a seguire i miei tutorial può anche attivare la campanellina vi lascio qua dei video come suggerimento da poter guardare per migliorare le vostre skills su final cut noi ci vediamo nel prossimo video